Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie. Sono le 8 del mattino quando l'assessore all'urbanistica del comune di Milano, Pierfrancesco Maran, scrive su Facebook a questa frase. Commento ilogio di Maran, l'assessore che dice no di Gianluca Di Feo nelle ultime ore è diventato per tutta Italia l'assessore che ha detto no al gruppo dell'imprenditore Luca Parnasi che gli offriva un appartamento. La vicenda è emersa dalle intercettazioni fatte durante l'inchiesta che ha portato ai 9 arresti per il nuovo stadio della Roma. Secondo il materiale d'indagine, lo stesso gruppo avrebbe contattato Maran offrendogli un appartamento in cambio di favori e lui avrebbe risposto con la seguente frase, a Milano non si usa. Poi in un'intervista video ha spiegato che, in realtà, gli emissari del gruppo romano non hanno avuto modo di comportarsi in maniera irregolare, hanno respirato subito il clima per cui in un ufficio come il mio non si possono fare richieste improprie. In riproduzione Ha deciso però di farlo oggi, sulla sua pagina Facebook, ho davvero apprezzato i numerosi messaggi che mi sono arrivati da tante persone che grazie a questa notizia hanno ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica. Ci tengo a dire che questa però è, e deve essere, la normalità. Non solo per me, ma per tutta la giunta di cui faccio parte, ed è la normalità per la gran parte di coloro che si impegnano nelle istituzioni mossi da passione e voglia di cambiare le cose. Argomenti, Milano Protagonisti, per Francesco Maran Copyright Riproduzione riservata 14 giugno 2018